Giovani artisti in musica e poesia per la quindicesima edizione dei concerti della cometa con la straordinaria direzione artistica del maestro Stefano Casaccia presidente dell'associazione nova accademia e la collaborazione de la bussola dell'attore di Francesco Gusmetta alla scuola di musica 55 in via dei capitelli 3 inizio dei concerti ore 18 per tutti i presenti aperitivo offerto dall'associazione i prossimi appuntamenti mercoledì 21 novembre lunedì 3 giovedì 6 13 20 dicembre e domenica 6 gennaio i concerti della cometa info e biglietti scuola di musica 55